Ciao e bentornati al zucale! Bentornati sul canale, amici! Allora, tu sei troppo rapido, cioè calma, saluta prima, hai fatto lo strillo e già vuoi aprire, io capisco, anche io voglio sapere cosa c'è dentro, non so cosa sia. Non ti dà nessuno indizio, non ti dice cosa c'è dentro. È tornata la mano, come l'anno scorso, me l'ero dimenticata, forse è la mano dell'elfo domestico. Dicevo, l'abbiamo trovato in edicola, non sappiamo che cosa sia, ci sono dentro delle cose, ma neanche tante, costa 4,95 euro e Sara è inarrestabile. Mentre Sara lo apre, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete e strappate gli adesivi così. È un enorme ovetto, Kinder, però c'è anche dello... perché non si apre? Perché hai bisogno del mio aiuto, caro. Allora, vediamo che cosa ci troviamo dentro. Allora, abbiamo una bara con... No, che carini! Ma questo è una caramella, no? Ah no, questo non lo apriremo al momento. Aspetta che guarda questo, è slime con un ragno dentro. Non mi piace lo slime. Però è carino il fatto che sia immerso nello slime. Vuoi vedere? Voglio vedere? Oh yeah! È che si è leggermente contratto nel tempo, è diventata una gelatina, non è più uno slime. Guardate come si è contratto. E poi abbiamo due bustine, una con degli zombie, i salta zombie, zombie zitti, salta zombie 2. Da non perdere, non mangia un insetto mutante. Un insetto cambia testa e corpo, dà, e dà vita al tuo musco. Quindi è un po' come le buste sorprese, hanno raccolto alcune cose terrificanti. Ma non è alta! Sì, e questo invece è l'oro insetto che stava leggendo Sara, per in omaggio l'insetto mutante, che puoi intercambiare. Hanno messo insieme delle cose un po' spaventose, un po' tipo Halloween, per dare vita di nuovo a delle cose avanzate da fondo di magasino. Però possono essere carine. Andiamo a vedere quale, apriamo per prima. Questo però sto cercando l'apertura facilità. Non c'è. Non c'è l'apertura facilità, quindi la facilitiamo noi l'apertura. Questa abbiamo trovato un'altra busta, l'immagine. Esattamente, quindi abbiamo la... Aspetta, c'è un'altra! C'è un'altra. Quindi abbiamo due buste dentro, una busta che era dentro di nuovo. Che c'è? Quindi abbiamo questa, aspetta, fa vedere questa. Non tastarla. No, no, ok, abbiamo due buste diverse. Ah, ok, si è. Vai, qui c'è il facilitatore. Cosa abbiamo trovato? Si muove, sembra molle. No, allora, checklist. Ma che bello! Sono insetti molli. Vediamo. Ah, la mosca! Ecco, questi non sono molli, si sente. Sono quelli da intercambiare. Che diceva sulla copertina? Molti di voi sanno che non apprezzo molto queste cose mollicce, piedi di roba che poi si seccano, si rompono. Che schifo! Va bene, andiamo ad aprire il secondo insetto. La prima mosca, poi proprio la mosca. Bruttissima mia. Cosa abbiamo trovato? Una mini checklist con i mosti mutanti, insetti mutanti. E qui vediamo un po' di insetti. Ma non ce ne sono due! No, erano due insetti, una mosca e quello. Però, in effetti, però, diceva, cosa diceva? Dov'è? No, un insetto mutante. Guarda! Mi nomi a un insetto mutante, cambia testa, mutante. Un insetto in mutande. Cambia testa e corpo. Ma cosa fa Aleppo Domestico? Sta incasiando tutti i fili dei microfoni. Dov'è sto insetto mutante? Ma cosa muta da solo? Lo si spezza in due, basta e muore. Insetto morto. Però è carino, Arancione. Se ne hai due, metti la testa sull'altro e questo sulla testa dell'altro. Se qualcuno di voi fa l'albero di Halloween, perché so che è una usanza che alcuni fanno, questo è che sarebbe perfetto. L'anellino ed è arancione come le zucche di Halloween. Ok, perché siamo a Zombies. C'è più cartaccia che altro. Salata zombie. Salta zombie. Salta zombie, che salata. Oggi c'è poca luce qua dentro. Silver, gold, fluo, cercali. Sì, troveremo sicuramente il fluo gold. Ne sono sicuro e convinto. Vai, apri, facci vedere. Checklist, checklist, fa vedere la checklist. Faccio una premessa. Fai una premessa. Non so, qual è quello glow in the dark. Qualcuno ha deciso di tagliare l'erba qua vicino a noi, perché a quest'ora bisogna tagliare l'erba. Ora era un motorino, ma qual è quello glow in the dark? I buoni, i cattivi e il glow in the dark non ne ho la più pallida idea. Fa vedere. Qualcuno ci ha fatto notare che si sentivano le campane, anche oggi si sentiranno le campane. A di video dedicati a Halloween ne abbiamo veramente tanti quest'anno, tanti. Ne ho trovati due. Ah, eccovi qua, eccovi qua, gli speciali. Non sono i glow in the dark. Vediamo, due, perché ci sono due pacchetti. Questo e questo. Vediamoli. Ma abbiamo trovato pure i cattivi. In pratica si lanciano due cattivi brutti come gli zombie. E già gli zombie di per sé sono brutti. Quindi diciamo che in questa busta sorpresa abbiamo trovato, facciamo vedere bene. Una mosca, un ragno dentro. Ehi, vieni qua. Un insetto divisibile. Un insetto che si può dire anche un po' morticello, perché se lo dividi a metà... Muore. Ecco, muore. Come tutti gli insetti muorono. Se invece ci fosse stato un secondo insetto si poteva combinare. Questo è il risultato del mega uovo arancione di Halloween. Come vi ho già detto, iscrivetevi al canale e mettete un like se vi è piaciuto il video. E come sempre... Noi vi stiamoci nel prossimo video. Ciao!